Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di Pagine Aperte Web. Oggi ho l'onore di presentarvi il nuovo libro di Papa Francesco. Si intitola L'Avangelo della vita nuova ed è pubblicato dalle edizioni San Paolo. Davvero un onore, un libro meraviglioso con cui Papa Francesco ha scelto di guidarci in questa nuova quaresima. Vita nuova, ci dice il Papa. Una parola davvero che ci guida all'interno di questo cammino. Un cammino di 40 giorni in cui Papa Francesco ci dice di non sentirci soli, di sentirci sempre a fianco, la guida di Gesù. Papa Francesco davvero ci è accanto come un nostro vero padre, un padre che ci prende per mano e ci guida in questo cammino. E' Lui a dirci che dobbiamo aprire il nostro cuore per cambiarlo, andare oltre il nostro orticello, ovvero uscire dalle nostre case per raggiungere Gesù e riconoscerlo nei nostri fratelli. Il Papa davvero ci è accanto, lo dobbiamo sentire a noi vicino. E cosa dobbiamo fare per uscire dal nostro orticello? Uscire dalle nostre case non basta, dobbiamo prima di tutto aprire il cuore. Uscire fuori dal nostro cuore per trasformarlo. Questo è il primo passo per cambiare la vita. Una vita nuova. Spesso noi cristiani pensiamo a una vita nuova nel futuro, nell'eternità. Ma il Papa ci dice che non è così. Così sarebbe troppo facile. Ma la vita nuova è oggi, ci dice il Papa. Non solo nel futuro, quando saremo con Lui, ma soprattutto oggi. Dio sta facendo tutto nuovo per noi, ogni giorno. E' così che incomincia il nostro impegno. Il Papa, come sempre, ci dice che per cambiare dobbiamo prendere in mano il Vangelo. Prima di tutto ascoltarlo col cuore e leggerlo ogni giorno. Ma questo libro ha qualcosa di più. In questo libro il Papa, infatti, ci fa una vera e propria catechesi. Ci suggerisce quali brani leggere e come commentarli dentro di noi. Davvero un qualcosa di speciale. Ma come riuscire a far entrare il Vangelo dentro di noi? Il Papa ci invita a uscire dalle nostre abitudini. Uscire dalla routine quotidiana. Questo vuol dire prima di tutto fermarci. Fermarci, aprire gli occhi e aprire il cuore. Un momento ideale per aprire il cuore è proprio la Quaresima. Un periodo in cui portare dentro di noi la croce. Ma come ci dice Papa Francesco? Sempre a piccoli passi. Non serve a nulla, infatti, correre, ci dice il Papa. Perché correre e accelerare nella vita significa che magari potremmo tutto un tratto trovarci davanti a un muro, doverci fermare senza sapere più cosa fare. Ma non è così per noi. Noi cristiani, infatti, dobbiamo sempre sentire accanto a noi Gesù. Gesù che ci accompagna, come ci dice spesso il Papa, camminando. Camminare, infatti, è un verbo caro a Papa Francesco. Un verbo caro che ci spiega come, a piccoli passi, possiamo sempre sentire accanto a noi Gesù. È così che il Papa ci sprona e ci chiede a chi assomiglio? Ai discepoli che dormono mentre Gesù soffre? Oppure a Giuda, che finge di amare Gesù e poi lo tradisce? O meglio a Simone, il Cireneo, che pur rientrando stanco dal lavoro, si ferma e porta la croce di Gesù, lo accompagna. Domande davvero che non ci devono far paura, che ci devono spronare, che ci devono svegliare, o meglio risvegliare, per capire e vedere quanto Gesù è accanto a noi con il suo spirito. Tanti i dubbi e le domande che Gesù ci pone attraverso il Papa, vero pastore delle nostre anime. È così che non dobbiamo avere paura, ci dice il Papa, perché il Signore ci aspetta per darci la sua luce, per perdonarci. Il Papa ci suggerisce di uscire dalle catene del mondo. È così che infatti incomincia il libro. Il Papa ci sprona, vi ho detto, uscire dalle catene del mondo, ovvero guardare oltre, andare oltre quello che è il pessimismo, che è la brama del possesso, che è l'egoismo, per riscoprirci fratelli, per vederci e riconoscerci uno accanto all'altro. Così Papa Francesco ci invita a guardare, guardare quei diritti che ci indicano come uscire dalla cultura dello scarto. La casa, la terra, il possesso dei nostri diritti, il primo dei quali è il lavoro. Diritti che però per noi cristiani devono essere doveri, ci dice il Papa. Noi cristiani infatti dobbiamo lottare non solo per noi, ma anche per i nostri fratelli. Ed è proprio bello l'invito del Papa che ci fa riflettere, farci riflettere infatti su come. Solo difendendo, dice il Papa, la nostra vita nuova in Gesù, saremo autori della nostra dignità come Dio vuole. E' così che davvero riusciamo a scoprire come il nostro Vangelo tutti i giorni è il Vangelo della vita nuova, ma non solo per noi, per tutti i fratelli in questo mondo. Il secondo libro che vi voglio presentare si intitola Perché ti fai condizionare. E' scritto da Don Marco D'Agostino e fa parte del Progetto Famiglia, una collana coedita dalle edizioni Paoline e dalle edizioni San Paolo. Un libro dedicato agli adolescenti, però come vi ho detto fa parte di una collana che si intitola Progetto Famiglia. Una collana dedicata agli adolescenti che guarda la famiglia, perché gli adolescenti, come direbbe Papa Francesco, sono il mattone principale delle famiglie di oggi e delle famiglie di domani. Vi ho già presentato un libro di questa collana che si intitolava Adio, cosa importa di me? Don Marco invece adesso chiede ai giovani Perché ti fai condizionare? Una domanda importante a cui però i giovani possono rispondere. Ed è il protagonista di questa collana che si chiama Loris che ci aiuta a riflettere su tutto ciò. Il libro nasce da una festa di Capodanno. È qua che Loris si trova. E questa domanda, perché ti fai condizionare, gli rimbomba dentro la testa e ci fa da guida all'interno del libro. Loris infatti, come tanti adolescenti, vive tra illusione e realtà, il sottotitolo con cui ci guida Don Marco d'Agostino. Ecco, il libro comincia in una notte di Capodanno. Loris si trova tra i suoi amici che, di fronte a tante risate, lo costringono a bere e a ubriacarsi. E quasi Loris si illude di avere il controllo della sua vita davanti a sé. Peccato che questa illusione duri poco, giusto poche ore, per far capire a Loris che in realtà tante e tante sono le difficoltà. La prima è rientrare a casa e farsi vedere in quel modo, sbronzo dalla madre. E poi, come riuscire a trovare il coraggio di parlare con la madre di tutto quello che ha combinato con gli amici. E così che, in mezzo a tante difficoltà, Loris si trova davanti alle foto che gli hanno scattato su Facebook gli amici. E non fa altro che temere che la madre e il padre lo vedano conciato in quel modo. e pure convinto di essere di fronte a tanti momenti di gioia, si ferma e dice e adesso cosa mi tocca? Sì, tante risate, tanti balli, tanta felicità, ma la mattina successiva cos'è il rimasto di tutto questo? E così che, a partire da tante domande che ci fa Don Marco D'Agostino, anche a noi, genitori, educatori, catechisti, professori, riusciamo a capire che quello che Loris si chiede sono domande che anche noi ci dobbiamo fare. Infatti, come dice Loris, tutti gli adulti chiedono, pretendono, comandano, senza però rendersi conto delle debolezze e delle esigenze dei ragazzi. Tra una pagina e l'altra trascorriamo con Loris un intero anno che va dalle difficoltà delle discussioni con i genitori quando si rientra a casa con le note dei professori a quelle che Loris chiama certe cose di cui con gli adulti è meglio non parlare. Le difficoltà sono davvero tante. E Loris, in un titolo del capitolo del libro, dice A-A-A adulti cercasi. Questo vuol dire che Loris si sente solo, si sente in difficoltà. Però qualcosa, di fronte a questa domanda perché ti fai condizionare che rimbomba nella sua testa, qualcosa si incomincia a cambiare. Dubbi, difficoltà, debolezze che incominciano a far capire a Loris, affiancato naturalmente da quelle che lui chiama punizioni dei genitori, ma in realtà sono consigli, qualcosa incomincia a cambiare. Ed è così che passando dalla fine dell'anno scolastico ai gelati mangiati con gli amici e a quest'anno tra i banchi che subito rincomincia qualcosa in Loris si cambia. Non più illusioni ma quella che Loris stesso chiama realtà. È davvero importante capire come Loris dica qualcosa di fronte a questa realtà mi ha fatto cambiare, mi ha fatto prima di tutto pensare. Dice Loris ce ne potevano essere ben poche cose su cui discutere. Infatti lui stesso dice che le giustificazioni erano difficili, c'era poco da cambiare perché lui giustificazioni ne aveva poche, gli errori li aveva fatti davvero. Ed è così che pagina dopo pagina, mese dopo mese, arriviamo al nuovo capodanno. È questa finalmente per Loris che è cresciuto una vera decisione che prende lui senza farsi illudere dagli amici. È così che arriva di fronte ai tredici anni finalmente la prima decisione che non è più un'illusione. Una decisione nel nuovo capodanno fatto di realtà e finalmente di verità. Un po' come dice Gesù, la verità nella vita nuova, la verità nella vita che cambia. Vi ricordo quindi i titoli dei libri che vi ho presentato. Il primo è il nuovo libro di Papa Francesco che si intitola Un Vangelo nella vita nuova edito dalle edizioni San Paolo e il secondo è il libro scritto da Don Marco D'Agostino che si intitola Perché ti fai condizionare coedito dalle edizioni Paoline e dalle edizioni San Paolo. Un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao!